Ciao ragazzi, io sono Luca e benvenuti a Dream Corner, il canale di cocktail numero uno in Italia. Oggi utilizzeremo la soda, fragole, succo di limone, basilico, zucchero di canna per preparare lo strawberry berry. Questo è il nostro terzo drink della miniserie dedicata agli analcolici e ci è stato suggerito sempre dal barista Fabio Giacomini. Lo strawberry berry è un drink che va servito all'interno di un eyeball e la tecnica che utilizzeremo per prepararlo è quella del mandorle. Cominciamo mettendo le fragole all'interno del nostro eyeball. Ne metteremo all'incirca 5. Fatto questo aggiungeremo un cucchiaino di zucchero di canna bianca raffinato e mezz'oncia di succo di limone. Dopodiché prenderemo il paraschizzi e col pestello andremo a pestare le fragole. Mestate le fragole quanto basta andiamo ad aggiungere alla nostra base 6 foglie di basilico. Andiamo a incorporare le fragole pestate con le foglie di basilico stando attenti a non rompere le foglie di basilico. Perfetto. Fatto questo riempiremo il nostro bicchiere di ghiaccio tritato quasi fino all'ora. Dopodiché andremo a colmare il tutto con la soda. sempre usando il paraschizzi e il barspum mescoleremo il nostro drink perfetto. Andremo poi a decorare il tutto con un metto di basilico e una fragole. Due cannucce e il nostro strawberry berry da pronto. Pecamo a seguire Uh, 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 Grazie a tutti.